Do il benvenuto a questa terza edizione di Rome Museum Exhibition. Il panel di oggi riguarda l'articatronage e le nuove tendenze dell'antropia in arte. Il panel è diviso in due sezioni. La prima sezione è di carattere istituzionale, che vede la presenza di importanti esponenti delle sessioni pubbliche e una seconda sessione invece dedicata ai protagonisti del mondo privato. Lascio la parola a Carolina Bocchi di ALES STA. Buongiorno a tutti. Quello che volevo fare in questi pochi minuti a disposizione era un po' a darvi una panoramica di quelli che sono gli strumenti disponibili per costruire un rapporto pubblico-privato finalizzato a sostenere la gestione del patrimonio culturale, anche la sua valorizzazione e anche la gestione di quelle che sono le istituzioni culturali. Ovviamente gli strumenti sono tanti, quindi è opportuno concentrarsi solo su alcuni. Ne ho scelti tre per questo momento di confronto di oggi, che sono le sponsorizzazioni, i partenariati speciali e l'arbonus. È chiaro che ognuno di questi strumenti ha i suoi pro e contro e non tutti sono applicabili in qualunque situazione. Cominciamo dalle sponsorizzazioni. Le sponsorizzazioni in realtà si basano su un dot des, sono una negoziazione commerciale di fatto e appunto per questo in genere si adattano maggiormente a quelli che sono i grandi attrattori, perché chiaramente un grande attrattore ha di per sé un valore commerciale insito che si riflette poi sul beneficio che ne trae lo sponsor. Quindi questo è un primo aspetto. L'altro interessante da conoscere, anche con riferimento a sviluppi non diciamo abbastanza recenti, sono una semplificazione che è stata introdotta per le sponsorizzazioni culturali sull'ultimo codice degli appalti che riguarda la trasparenza da utilizzare in ambito pubblico per poter identificare uno sponsor e quindi poi negoziare la relativa sponsorizzazione. Con l'ultimo codice degli appalti, l'articolo 19 in particolare, è stata semplificata la procedura di scelta attraverso una trasparenza 30 giorni sul sito istituzionale. Quindi bisogna dire che si sta cercando anche da punto di vista normativo di agevolare quanto più possibile soprattutto l'ambito pubblico nel poter accedere a questi strumenti, come dicevo, di facilitazione dei rapporti. Per ciò che riguarda ancora una volta diciamo un po' i pro e i contro sia lato sponsor sia sponsee, sono che sicuramente lo sponsor può dedurre quelle che sono le spese. Lo sponsee riesce a monetizzare questo intervento ed è anche interessante il fatto che lo possa fare attraverso anche sponsorizzazioni tecniche e non solo finanziare, il che in ambito di pubblica amministrazione può facilitare notevolmente. C'è di contro che sicuramente richiede una capacità anche negoziale per poter gestire correttamente la negoziazione relativa alla sponsorizzazione. Inoltre va gestita la questione della partita IVA che è legata sempre alle sponsorizzazioni, mentre dal lato ancora dello sponsor, sebbene la visibilità, la sua presenza possa essere molto evidente, quindi c'è un grande ritorno da questo punto di vista, c'è anche da tenere racconto il tema dell'inerenza che va sempre dimostrata in modo tale da poter effettivamente poi godere del beneficio della deducibilità. Quindi questi sono soltanto alcuni spunti per inquadrare diciamo questo primo strumento. Altro strumento molto interessante e abbastanza tra virgolette nuovo nella sua applicazione sono i partenariati speciali, sempre con riferimento all'ultimo codice degli appalti, all'articolo 151, che hanno avuto una recente estensione proprio con il DL Semplificazioni per facilitare ancora una volta come per le sponsorizzazioni l'identificazione dei partner e la pubblica amministrazione, prima solo MIPAC e con il DL semplificazione aperta anche al territorio, quindi agli enti territoriali, regioni, comuni in particolare, per poter identificare i partner appunto attraverso questi 30 giorni di trasparenza. Questo è uno strumento molto interessante e quasi all'estremo imposto rispetto alle sponsorizzazioni perché in genere viene utilizzato per quel patrimonio minore, non necessariamente per il suo valore intrinseco ma perché magari si trova in uno stato di abbandono, di necessità appunto di interventi, di tutela, spesso non fruibile al pubblico. Per cui l'obiettivo diciamo non è tanto quello di monetizzare un rapporto e quindi trarre il massimo dal punto di vista anche di sostegno finanziario ma proprio uno strumento che consenta una agevole collaborazione e spesso dall'altra parte quindi diciamo dal lato del privato che si affaccia a questo tipo di relazioni troviamo spesso anche associazioni, fondazioni cooperative, quindi un'altra tipologia di soggetti. È sicuramente, ripeto, una cosa molto interessante da tenere in considerazione appunto anche alla luce della nuova convenzione di Faro e di tutta una politica culturale che si affaccia come potenzialità appunto in un'ottica pubblico privato. Il terzo strumento è l'Arbonus su cui magari volevo soffermarmi un po' di più anche perché la nostra società, Ales, che è la società in house del Ministero dei Beni Culturali si occupa appunto proprio per conto del Ministero della gestione della promozione di questa norma. È una norma molto interessante perché di fatto è quella che ha aperto diciamo in maniera semplice e con un incentivo molto forte il mecenatismo quindi diciamo le donazioni in ambito culturale. È legata ad un beneficio fiscale molto interessante perché le donazioni che rientrano in questo ambito possono godere del 65% di credito d'imposta rispetto a quanto donato quindi sicuramente è un utilizzo strategico molto importante del beneficio fiscale per sostenere una politica culturale mirata appunto al coinvolgimento dei privati siano essi persone fisiche diciamo semplici cittadini siano aziende sia ad esempio fondazioni bancarie quindi si applica in un modo molto ampio su tantissime su tantissimi casi e appunto si colloca un po' a metà rispetto ai due altri strumenti che citavo poc'anzi perché ha uno spettro molto ampio in termini soprattutto di soggetti che possono partecipare. Per ciò che riguarda diciamo i destinatari di questi beni prevalentemente la norma è rivolta al mondo pubblico quindi diciamo al patrimonio culturale pubblico e alle istituzioni pubbliche per ciò che riguarda il patrimonio culturale pubblico anche quando è gestito affidato ad un ente privato in modalità di concessione o affidamento e al mondo dello spettacolo. Un mondo dello spettacolo anch'esso diciamo abbastanza istituzionale in quanto si rivolge ai beneficiari del FUS. Quindi devo dire che ad oggi la norma ha avuto un positivo riscontro anche perché ormai è una norma stabile e quindi questo è molto importante perché consente anche di pianificare tutta una serie di politiche, di strategie appunto che facilitano le relazioni pubblico privato e anche devo dire i risultati sono molto eloquenti perché ad oggi dall'inizio della sua attuazione sono state superate le 490 milioni di erogazioni liberali abbiamo oltre 4.000 raccolte, oltre 2.000 enti che hanno partecipato, stanno partecipando con delle raccolte fondi che godono appunto dell'arbonus e ci sono oltre 17.000 mecenati che hanno utilizzato questo strumento. È molto interessante che il 60% di loro sono proprio privati ai cittadini, il che sottolinea quanto anche lo spirito di coinvolgimento del pubblico in generale appunto delle persone fisiche è molto importante nel riavvicinarli appunto al concetto di tutela e di gestione del patrimonio. E per chiudere volevo dire che anche rispetto a questo purtroppo scenario Covid abbiamo notato quanto sia stato reclamato e richiesto da parte di tante tante istituzioni culturali, associazioni, portavoci del mondo culturale l'affermazione e il consolidamento se non l'ampliamento dell'arbonus, riconosciuto davvero come strumento utile e strategico per appunto il sostegno delle istituzioni culturali e addirittura positivamente abbiamo notato oltre al fatto che non si è fermato l'arbonus perché effettivamente la donazione rispetto un settore molto colpito da questa pandemia si è rivelato molto importante e sentito da parte dei mecenati che non hanno abbandonato le istituzioni ma anche le istituzioni hanno continuato ad utilizzarlo in modo molto proattivo e anche innovativo in alcuni casi come ad esempio nel mondo dello spettacolo dove ci sono stati spettacoli organizzati proprio con il sostegno dell'arbonus quindi è stato molto interessante. Vedo una domanda se l'arbonus è applicabile anche ad aziende di proprietà statale. Va visto un attimo caso per caso in questo ambito se ad esempio l'azienda è concessionario affidataria di un bene pubblico comunque per tutte le domande anche più specifiche vi invito a scriverci alla info chiocciola artbonus.gov.it dove diciamo cercheremo di dare tutto il supporto che non riusciamo a dare adesso online in questo in questo webinar che ovviamente diciamo anche delle limitazioni in termini di tempo credo di aver utilizzato diciamo il mio spazio chiedo alla coordinatrice se devo interrompermi e poi ovviamente resta a disposizione. Grazie molte per il tuo intervento soprattutto per l'interessante nuovo scenario dei partenari attivi speciali. Ora interviene Chiara Roscagno del Ministero che ci porterà la sua testimonianza sulle sponsorizzazioni dei beni culturali. Bene grazie, porto una testimonianza che di fatto segna una sorta di sviluppo dell'esperienza che lo scorso anno avevo proprio portato e avevo condiviso in occasione dell'ultimo incontro che mi piace ricondurre se vogliamo ad una ricaduta ulteriore dell'intervento che fu eseguito tra il 2016 e il 2018 presso il museo del Cenacolo Vinciano e che è stato esito di una collaborazione di tipo pubblico privato attraverso la formula della sponsorizzazione. In quel caso si era intrapreso un progetto di restauro ambientale, di potenzialmente del sistema HICVEC che è il sistema di trattamento e condizionamento dell'aria che è cruciale per la conservazione dell'opera di Leonardo e che quindi ha visto la collaborazione proprio all'interno di questo rapporto di sponsorizzazione tra MIBACT, l'allora polo museale regionale della Lombardia e Italy. Quella esperienza ha di fatto riguardato certamente un luogo di straordinaria importanza dal punto di vista culturale per il nostro paese ma anche un sito UNESCO e quindi in quanto tale in quanto di fatto soggetti che hanno il compito di produrre in qualche modo attività di valorizzazione culturale che siano anche adeguate agli indirizzi non solo di tutte le valorizzazioni secondo il nostro codice, secondo il nostro ordinamento ma anche in una prospettiva internazionale, anche una prospettiva rispetto a quelli che sono i valori complessivi a cui ci richiama UNESCO e quindi a questo riguardo abbiamo intrapreso un percorso che è tutt'oggi in corso di svolgimento, quindi una lunga durata se vogliamo di quell'episodio di sponsorizzazione che si è concluso fattivamente con la chiusura dei lavori ma che poi ha in qualche modo permesso all'interno del polo museale regionale o la direzione regionale musee della Lombardia proprio di proseguire in quella che è la nostra azione anche culturale e quindi di passaggio se vogliamo da un episodio di sponsorizzazione a un'occasione proprio di creazione di valore. Il fatto di essere un sito UNESCO ha sempre in qualche misura spinto noi a cercare di connettere l'esperienza locale ad una dimensione globale che in realtà nel caso del Cenacolo e dei musei che sono forti attrattori, sono stati e torneranno ad essere forti attrattori di attenzione e di visitatori da tutto il mondo, quindi un'occasione anche per intraprendere insieme degli obiettivi di carattere globale. Diciamo che nel corso, già nella conduzione della sponsorizzazione, sono stati considerati attentamente i valori cardine a cui richiama anche UNESCO a questo riguardo in termini proprio di miglioramento e della fruizione allargata e quindi di disponibilità del bene alla popolazione, non solo locale, non solo italiana ma anche internazionale, al fatto di sostenere reali circostanze di costruzione di un futuro condiviso in termini di ricerca, in termini di innovazione tecnologica e quei fondi erano considereboli, consideriamo 700 mila Euro l'oggetto della sponsorizzazione a cui si sono sommati altri 300 mila Euro per le azioni di condivisione e altri oltre 600 mila Euro da parte di Nibac e quindi creare anche una circostanza di crescita in termini di innovazione tecnologica e scientifica, obiettivo chiaro al quale ci richiama sempre UNESCO nella gestione del patrimonio di interesse mondiale e poi soprattutto la creazione di circostanze se vogliamo di condivisione di consapevolezza e quindi anche sia durante l'operazione di ricerca e restauro ambientale quello di utilizzare se vogliamo questa circostanza di studio e di protezione come una forma di sensibilizzazione, sensibilizzazione delle persone alla scala globale, circa i grandi rischi ai quali sono esposti i patrimoni dell'umanità a causa, in questo caso come l'ultima cena rende tangibile almeno drammaticamente dal 1517, il grande complessità del rapporto tra le condizioni ambientali e la conservazione del nostro patrimonio. A partire da questi tre filoni fondamentali e guidati anche dallo spirito e l'obiettivo comune di rendere in qualche misura questa esperienza non solo circoscritta alle mura, non solo circoscritte a quell'intervento ma renderla in qualche modo un'esperienza di lunga durata, sono stati intrapresi una serie di attività importanti. Unesco ricorda sempre e soprattutto nel World Heritage Education Program l'importanza, proprio secondo l'articolo 27 della Convenzione concernente la protezione del patrimonio culturale mondiale, l'importanza di rendere partecipe la popolazione in particolare i giovani rispetto al valore e al destino del nostro patrimonio culturale. Quindi soprattutto su questo filone, cioè su quello di utilizzare se vogliamo anche questa esperienza di cura, di conoscenza come un'esperienza condivisa quindi ad una scala allargata ha portato nel corso del 2019 e per quello che è stato possibile nel 2020 e abbiamo altre progettualità in essere, l'idea di portare all'estero fisicamente con delle attività internazionali l'esperienza, quindi il caso del studio e della lotta contro la fragilità di un'opera di così grande anche importanza evocativa per la popolazione mondiale all'estero. È stato quindi intrapresa un'attività in particolare nel 2019 e anche per quello che è stato possibile nel 2020 su due grandi temi e da un lato Leonardo da Vinci Legacy, cioè la eredità di Leonardo da Vinci e quindi il grande tema della lotta nei secoli e poi anche quotidiana, svolta quotidianamente dal museo nella cura e nella conoscenza dell'opera di Leonardo da Vinci proprio come motore per incoraggiare i giovani e soprattutto abbiamo operato in questa direzione in India con alcune esperienze in Cina e anche in Turchia, proprio sensibilizzare i giovani e la popolazione intorno alla necessità di identificare, proteggere e conservare il patrimonio culturale proprio a partire dall'esperienza del restauro ambientale della cena per poi affrontare il tema allargato, cruciale e fondamentale e quello della protezione del nostro patrimonio culturale mondiale come esito di una partecipazione collettiva, di un senso di responsabilità e quindi coinvolgere i giovani in uno spirito di cooperazione comune per il raggiungimento di questo obiettivo. Ovviamente l'altro è l'altro grande tema che proprio questa esperienza ha permesso di rendere tangibile ai giovani che sono stati rincontrati durante queste attività proprio di affrontare il tema dell'heritage conservation, cioè quali sono le difficoltà, i temi e gli obiettivi ai quali un'esperienza come quella della protezione dell'ultima cena ci rende sensibili e ci porta poi a trovare anche nella propria esperienza individuale in termini di se vogliamo anche cambiamento virtuoso delle proprie abitudini elementari di vita non solo per il benessere individuale e delle comunità alle quali si appartiene ma anche in senso più allargato nella direzione di sentirsi tutti i partecipi nella protezione del patrimonio culturale mondiale. Un altro tema che purtroppo non abbiamo così tanto tempo, chiudo con la chiudura della ricerca, la ricerca è andata avanti dall'esperienza proprio che è stata possibile grazie al finanziamento, sono stati acquistati degli strumenti di ricerca che hanno permesso di ottenere delle scoperte scientifiche, c'è stata una sorta di spin off e quindi il modello di ricerca messo in atto per Cenacolo è stato applicato al Museo del Novecento sempre in Milano e presso la Galleria Borghese con lo studio delle condizioni ambientali di conservazione di Apollo e Dafne e poi chiudo dicendo che l'attività di collaborazione scientifico-culturale che questa sponsorizzazione ha permesso di mettere in essere ha dato luogo alla creazione, ad ottenere soluzioni di notevole interesse tecnologico e di novità che sono rispondenti a requisiti innovativi di originalità e di industrialità, quindi da quella sponsorizzazione ora è nato un brevetto ovviamente che porterà il nome di Leonardo e che permetterà quindi di applicare in altre realtà non solo museali ma anche di vita comunitaria, mettere in pratica per il bene delle persone e delle opere d'arte quanto si è compreso sul tema ambientale indoor dell'ultima cena Grazie Chiara, interessantissima esperienza e sempre raccontata con molta partecipazione e passione A questo punto interviene Nicola Centrino per raccontarci l'esperienza dell'area qui nel Lazio nell'ambito dell'Art Bonus Grazie Silvia e grazie agli organizzatori di Rome Museum Exhibition Vi porto anche i saluti e i ringraziamenti dell'assessore Alessandra Sartore che come immaginerete per impegni istituzionali non è potuta essere qui questa mattina ma davvero ci teneva molto Vi racconto appunto come detto molto in breve la campagna Art Bonus Regione Lazio e se riesco anche vi faccio scorrere delle slide nel frattempo che parlo e in particolar modo è una campagna che è nata nel 2016 è stata presentata a novembre 2016 ma nasceva dal passato da una ricognizione dei principali beni di valenza storico-artistica presenti appunto sul territorio del Lazio in particolar modo cercando di selezionarne uno per ogni provincia e dando appunto alla campagna una dimensione di sistema quindi come vedete creando un claim, creando un'immagine coordinata creando un sito, un portale che fosse sia di informazione che di coinvolgimento dei potenziali sostenitori creando ovviamente anche degli strumenti adeguati per poter fare raccolta fondi sia dai privati inteso come comunità che per quanto riguarda il tessuto imprenditoriale nel 2017 vi faccio scorrere alcuni esempi questi sono appunto dei materiali che abbiamo realizzato in forma di brochure e di cartoline abbiamo riaperto i diversi immobili considerati appunto prioritari questo che vedete è l'ex edificio GIL all'interno appunto di Trastevere è chiaramente un'architettura razionalista di Luigi Moretti che è diventato un polo per la creatività e la nuova creatività in particolare quella giovanile ha ospitato delle mostre di arte contemporanea e in particolare appunto di fotografia con Steve McCurry oppure Irvait recentemente e la cosa molto importante è che questi immobili parto dall'esempio di ExGIL che è diventato WeGIL proprio in questo modo per sottolineare la dimensione collettiva partecipata anche della destinazione di questo immobile la cosa importante è la prospettiva che è stata assegnata infatti noi abbiamo riaperto soltanto il primo piano il piano ammezzato e proprio recentemente il primo di luglio del 2020 è stato presentato il programma di interventi di restauro e di riqualificazione dei piani successivi destinando appunto questo immobile alla formazione sia in ambito appunto enogastronomico che in ambito proprio professionale dando ulteriormente anche degli spunti di evoluzione nel corpo B in cui verrà realizzata addirittura una sala cinema proprio perché una parte dell'utilizzo di questo immobile ha anche un'accezione legata alla scuola di cinema volontè anche perché come ricorderete si trova appunto in via Induno è esattamente nel polo in quello che vuole diventare un po' il polo del cinema all'interno appunto della città di Roma in un altro contesto quindi parliamo dei Monti Cimini San Martino al Cimino lo splendido palazzo Doria Panfili riaperto anche in questo caso nel 2017 con una serie appunto di eventi speciali legati appunto chiaramente alla fruizione artistica questo appunto è un dettaglio della meravigliosa decorazione vedete appunto come ritorna il tema appunto dell'immagine coordinata della campagna con questo claim che abbiamo scelto la bellezza salverà il mondo aiutaci anche tu infine il castello di Santa Severa che immagino tanti di voi conosceranno in questo caso appunto mi preme raccontarvi una destinazione legata anche agli aspetti naturalistici e di nuove tecnologie applicate ai beni culturali proprio in questi mesi stiamo realizzando i lavori appunto di restauro che consentiranno di aprire ulteriori spazi appunto del castello tra cui Manica Corta e Manica Lunga nonché un intervento particolarmente importante lato storico-artistico cioè il battistero di Santa Severa che come immaginerete dal nome all'intero complesso qui vi lascio comunque i riferimenti della campagna mi preme darvi qualche indicazione sugli strumenti messi in atto pur nel breve tempo che c'è concesso sicuramente come diceva Carolina Barotti il grande la grande novità di questa campagna è stata associare sia i meccanismi di art bonus che quelli delle sponsorizzazioni in particolare sull'art bonus abbiamo cercato di inserire due novità che sono sicuramente una donazione online realizzata in una maniera molto user friendly quindi particolarmente veloce quindi non soltanto con il sistema di pago PA ma con il sistema di Paypal decisamente più diffuso diciamo per i normali acquisti e con un sistema di ricevute automatizzato l'altra novità rispetto appunto ad art bonus è sicuramente l'attivazione di un sistema di membership quindi un sistema a fasce che consente appunto di contro ricambiare per così dire sempre con delle ricompense di natura valoriale, simbolica la donazione che viene appunto effettuata e chiuderei appunto con una considerazione legata alla stretta attualità raccontandovi molto brevemente l'esempio di Villa Ponam uno degli immobili appunto della campagna di art bonus che è stata recensiva diciamo che possiamo cercare di stringere la relazione perché dobbiamo dare la parola anche a Maria e poi il pubblico ha magari qualche domanda da fare volentieri vi raccontavo di Villa Ponam su cui è stata attivata un avviso pubblico un partenariato pubblico privato la prima regione italiana ad attivare questo strumento tramite appunto evidenza pubblica e dall'altra parte invece la torre di palidoro 23 settembre abbiamo aperto uno spazio dedicato appunto alla memoria del vicebrigadiere salvo d'acquisto oggetto anch'essa appunto della campagna di art bonus vi confermo che tramite appunto la campagna art bonus attualmente quindi ribadendo quello che diceva Carolina anche in periodo di pandemia siamo riusciti a raccogliere decisamente appunto fondi sia da parte di privati che da parte di aziende che hanno voluto continuare a essere vicini a questa progettualità grazie ancora grazie Niccolò per il tuo intervento lascio la parola a Maria Rispoli se riesci a caricare le slides non li vedo Maria Rispoli del Parco archeologico di Pompei grazie perfetto prego perfetto buongiorno allora innanzitutto il mio sincero ringraziamento grazie a Silvia Stabile per avermi invitata a questo panel penso che sia importante spendere soltanto qualche parola per presentare il sistema Parco Pompei il Parco archeologico di Pompei è un istituto del MIBAC dotato di autonomia scientifica organizzativa finanziaria e contabile ed è concepito proprio come un istituto di ricerca tutela e valorizzazione tutte attività che mirano a un importante obiettivo che è quello della fruizione esso è costituito da numerose aree archeologiche ma anche da sedi espositive in primis l'area archeologica di Pompei a cui si associano le ville di Stabia di Bosco Reale di Uplontis il sito archeologico di Lungola ma anche le sedi espositive di Bosco Reale di Castello di Lettera e Reggio di Quisisana che ospita il museo archeologico di Stabia dunque come essendo appunto un museo autonomo come tutti i musei autonomi esso è provvisto di uno statuto di uno statuto che disciplina ruoli, compiti e attività e in particolar modo si legge che le attività del Parco archeologico di Pompei sono finalizzate alla fruizione pubblica dell'area archeologica del patrimonio materiale e immateriale di cui dispone mediante la tutela la conservazione e la valorizzazione e sono attresi dedicate alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca tecnica e scientifica dunque a queste parole ho voluto fare mettere da sfondo un'immagine che ritengo che sia molto significativa si tratta di un tesoretto ritrovato in una cassa di legno nei recenti quindi acquisito dei recenti scabi presso la casa del Giordino a Pompei che è costituito da numerosi oggetti preziosi probabilmente monili personali di una donna che in vano ha tentato la fuga ma anche numerose figurine dal cosiddetto valore apotropaico cioè avevano appunto l'obiettivo di allontanare la cattiva sorte sempre in ambra in pasta vitrea e questa immagine rappresenta proprio quello è soltanto ovviamente soltanto una piccolissima parte del nostro patrimonio materiale ma rappresenta anche quello che è il patrimonio immateriale proprio per il portato il profondo portato ideologico che porta la sostanza la materia di cui questo è costituito e alla trasmissione del patrimonio materiale ma anche del patrimonio immateriale siamo chiamati tutti sia soggetti pubblici che privati dunque le attività di conservazione di restauro di tutela sono sicuramente finalizzate alla trasmissione del patrimonio materiale ma soprattutto sono finalizzate alla trasmissione di quelle conoscenze che da cui deriva il progresso scientifico culturale civile ed economico della Repubblica italiana che così come si legge dallo statuto di Pompei e che la cui preservazione appunto è raccomandata altamente dall'unisco e in questo contesto il soggetto il ricorso da parte privato è auspicabile ed è possiamo dire che ha anche peso determinante nel potenziamento del miglioramento delle condizioni di accessibilità fisica ma anche culturale a questi luoghi della cultura e per il sostegno soprattutto di iniziative volte al servizio della società e del suo sviluppo e questa opportunità consente agli istituti culturali che sono costantemente impegnati nelle attività di manutenzione ordinaria e di conservazione anche di avere una spinta nella progettazione di attività volte al pubblico quindi il ricorso del privato si è ben visto in quelle che sono le attività di conservazione e di restauro ma anche in quelle di valorizzazione i musei infatti svolgono un ruolo strategico per la comunità del territorio ma essi si stanno arricchendo di un nuovo possiamo dire che hanno arricchito la propria carta di identità con un nuovo ruolo cioè quello di rappresentare anche luogo di interazione a soggetti pubblici e privati e proprio per questo motivo soltanto di recente per un'intuizione del professore Massimo Sanna direttore generale dell'interim del parco archeologico di Pompei nonché direttore generale dei musei è stato istituito l'ufficio fundraising un ufficio la cui un ufficio dotato di competenze di competenze in grado appunto di interagire con i soggetti privati e che hanno l'obiettivo di facilitare quel dialogo e soprattutto di portare a termine quei processi di fundraising di sponsorizzazione a piatti dunque il sito abbiamo abbiamo allestito un'intera sezione dedicata a fundraising ad art bonus e allo sponsor sponsor art l'abbiamo chiamata e in particolar modo la pagina dedicata allo sponsor art ha diverse sezioni proprio per dare l'opportunità al soggetto privato di innescare un dialogo con noi perché il messaggio che vogliamo dare è un messaggio univoco quello di partecipazione di condivisione di costruzione di progetti in sinergia per cui con la pagina antiprima nella pagina antiprima vengono caricati quei progetti per i quali sono in corso attività di progettazione per il quale punto parco intenderà chiedere il sostegno dei privati nella pagina proposta di sponsorizzazione è lo stesso privato che può proporre una sua partecipazione e nella pagina appunto sponsorizzazione invece è quel luogo dedicato a tutti i progetti che sono stati realizzati in condivisione con i privati dai contatti che sono versi negli ultimi anni abbiamo ricevuto abbiamo ricevuto le significative testimonianze esiste una comunità desiderosa di partecipare alla cultura del territorio che non che non è la cui partecipazione non è finalizzata solamente al ritorno di immagine ma non è sufficiente più questo non gli basta ed è proprio un lavoro che è stato svolto che è stato sponsorizzato con il privato è un esempio appunto di questo di questa della nascita di nuovi percorsi di condivisione di responsabilità sociale dunque l'UNIC l'Unione Nazionale delle Concerie Italiane ha sponsorizzato un lavoro di restauro e di valorizzazione del più grande impianto conciario a Pompei questa sponsorizzazione consentirà la riapertura di questo luogo e l'allestimento anche di un progetto didattico espositivo soprattutto pensato per i giovani costituito da manufatti e da strumenti dalla riproduzione di manufatti e di strumenti utili alla elaborazione della concia a Pompei il progetto il progetto però non si è esaurito nella città di Pompei ma il privato il soggetto privato ha organizzato delle attività formative presso le scuole secondarie di secondo grado ma anche presso l'università mostrando appunto l'origine della concia in Italia e quindi ha avuto delle importanti cadute anche sul territorio di riferimento ma non solo anche sul mercato internazionale poiché è stato realizzato un breve film documentario che mostra appunto le origini antiche di un'attività peculiare dei media in Italia tutto questo è stato possibile grazie ad alcune peculiarità di questa collaborazione da una parte la flessibilità della pubblica amministrazione dove la flessibilità si intende la capacità di organizzare percorsi culturali su livelli differenti da una parte anche il senso di responsabilità sociale da parte del soggetto privato dunque gli investimenti privati possono produrre un duplice valore quello economico che si traduce in attività concrete ma anche quello formativo per le ricadute positive che si generano a catena attività come queste appena descritte introducono il museo all'interno di dinamiche più complesse dove esso diventa anche uno spazio fisico metaforico che si introduce all'interno di una vita socio-economica spero di non aver scurato e di essere stata grazie Maria molto interessante e lascerei cinque minuti per rivolgere le domande in chat se qualcuno ha domande rispetto agli interventi ho visto prima che c'era una domanda per Carolina in chat da poi leggere anche tu Q&A chiedono chi se è a carico dell'istituzione culturale promuovere l'artibonus come vengono invitati i soggetti a partecipare a donazioni tramite l'artibonus non ho ben compreso la domanda perché si sente attratti ok se puoi andare in Q&A la finestra Q&A Vittoria Gelati ti ha rivolto una domanda allora aspetta che scorro non la vedo sul sul mio non la vedo sul mio cosa aspetta ecco qui allora è a carico di promuovere responsabilizzazione tramite l'artibonus come vengono invitati i soggetti a partecipare allora è chiaro che dal punto di vista centrale istituzionale uno dei ruoli che noi svolgiamo come ALES è quello di promuovere la norma e quindi dare sia attraverso il portale Arbonus e sia attraverso una serie di manifestazioni ad esempio adesso ogni anno in corso il premio per l'Arbonus dell'anno questo concorso che consente a chi ha chiuso già una raccolta di promuovere appunto e far votare i cittadini la raccolta dando visibilità di fatto sia al lavoro e quindi al bene culturale all'istituzione culturale protagonista sia anche a chi praticamente ha partecipato da mecenate alla realizzazione di questi interventi quindi ci sono numerose iniziative di visibilità di fatto è chiaro comunque come dimostrava anche l'intervento della Maria Rispoli su Pompei e diciamo gli altri interventi che è compito soprattutto dell'amministrazione proponente farsi carico di una strategia di promozione delle proprie raccolte fondi che si inquadrano in una strategia complessiva di gestione dell'istituzione culturale o del patrimonio culturale in gestione quindi è ovvio che non si può delegare sicuramente diciamo c'è necessità di acquisire competenze attraverso anche attività formative attività di consulenza qualora non ci fossero già in house nell'istituzione queste caratteristiche ma è imprescindibile che sia l'istituzione coinvolta in primo piano e non solo diciamo l'ufficio per così dire di fundraising o di comunicazione ma tutta l'istituzione a cominciare dai vertici che devono sentire questa necessità e impegnarsi appunto nel promuoverla e nell'ispirare fiducia per le donazioni rispondo non so se devo rispondere anche a quella di Andrea Cristini in realtà diciamo la necessità alla fine è sempre quella è chiaro che in questo periodo di pandemia c'è bisogno di un cambio anche di linguaggio e del modo in cui ci si pone di fronte alle raccolte fondi perché è ovvio che ci sono diciamo questioni emergenziali a cui far fronte però è anche vero che come dicevo la cultura è stata molto ferita e continua ad essere una priorità strategica anche per il paese in generale quindi è chiaro che non ha le implicazioni in termini di vite umane come nel settore sanitario ma da un punto di vista di lavoro di economia che genera è assolutamente prioritario quindi con le opportune secondo me come dire correttezze di linguaggio è assolutamente legittimo più che mai in questo momento porsi nella diciamo nel nel mondo della comunicazione rivolta anche alla ricerca di sostegno ci auguriamo anche poi che presto questo finisca però va seminato bene sin da oggi quindi le raccolte fondi anche questo è un messaggio che volevo mandare non è tutto così immediato è un percorso che si costruisce quindi quello che a volte inizia anche in un momento come questo su un'emergenza su una piccola cosa poi può trasformarsi laddove si genera appunto un'empatia un rapporto di fiducia di stima reciproca può diventare una collaborazione più importante ci auguriamo in un momento di eh c'è un'ulteriore domanda Carolina c'è un'ulteriore domanda tecnica che è rivolta a te questa diciamo questa domanda preferirei come ho detto all'altra di rispondere in modo specifico sulla info perché queste tipologie eh di 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 situazioni vanno esaminate una per uno sul sito eh dell'art bonus trovate anche tutta una serie di risoluzioni di risposte dell'agenzia delle entrate in particolare diciamo consiglio di leggere eh la risoluzione la 136 eh su questo aspetto eh però diciamo non si può dare una domanda una risposta generica va va visto caso per caso in generale diciamo quando c'è un concessionario un affidatario di un bene culturale pubblico questo può comunque aprire raccolte finalizzate alla manutenzione protezione e restauro del bene culturale quindi questa è una cosa che comunque vale eh in modo così eh complessivo per tutti poi sui singoli casi magari va va verificato grazie chiaro tutto e a questo punto ci dobbiamo eh staccare da questo da questa sessione e eh collegarci alla eh all'altra sessione quindi chiederei eh alla all'organizzazione la regia di fornirci le informazioni utili a transitare dalla sessione A alla sessione B di a a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.